Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video attrezzatura qui su Wild Therapy. Oggi andiamo ad affrontare un nuovo argomento e andiamo a scoprire qual è l'attrezzatura utile per affrontare in sicurezza le vie ferrate. Prima di tutto parliamo dello zaino. Che deve essere in grado di contenere tutta l'attrezzatura necessaria per affrontare la via ferrata, l'abbigliamento che non abbiamo indosso, acqua, cibo, qualche accessorio che ci portiamo dietro durante l'uscita. Normalmente se non siete tipi che vi portate il mondo è sufficiente uno zaino da 20-30 litri. Che deve essere comodo, leggero e possibilmente con poche fettucce che potrebbero andare ad incastrarsi durante la salita. Io personalmente utilizzo uno zaino da 30 litri della Kailas, studiato appositamente per l'arrampicata. Questo fa sì che ha tutta una serie di accorgimenti per poter agganciare anche esternamente l'attrezzatura. Adesso andiamo a scoprire che cosa mi porto durante l'uscita su vie ferrate. Prima di tutto un paio di bastoncini che attacco esternamente e li trovo utili durante l'avvicinamento alla via ferrata. Poi, primo elemento di sicurezza, il casco. Anche questo lo aggancio esternamente con una retina ragno. Obbligatorio durante l'ascesa. All'interno dello zaino, nella tasca principale, abbiamo l'imbrago e il serto da ferrata. Questi sono gli altri due elementi obbligatori durante l'ascesa in via ferrata. Due parole sul serto da ferrata, di cui comunque ho già fatto una recensione che vi lascio nell'info box e qua sopra nelle schede, è un set da ferrata a strappo. Se dovete cominciare a far vie ferrate, comunque vi consiglio un set da ferrata a strappo perché sono compatti, possibilmente con moschettone di dimensioni generose. Questo è quello che utilizzo io. Poi abbiamo un paio di rinvii. Questi sono utili da agganciare all'imbrago per poter fare sosta nei momenti in cui siamo stanchi. Agganciamo il rinvio all'anello di servizio dell'imbrago e l'altro moschettone al cavo di sicurezza o preferibilmente a un chiodo, a un punto di ancoraggio. Così abbiamo modo di riposarci senza dover andare a sforzare le braccia. Un paio di guanti. Anche questi sono guanti da via ferrata. Sostanzialmente hanno le dita tagliate in pelle. In alternativa ai rinvii potete utilizzare una longe. Questa viene utilizzata normalmente in arrampicato e in alpinismo. Ha la stessa funzione dei rinvii. Il vantaggio è di poter essere regolabile perché con tutti questi anelli è possibile regolare la distanza tra noi e il chiodo. La stessa funzione dei rinvii. Se andate ad affrontare vie particolarmente impegnative potete anche pensare di portare con voi le scarpette d'arrampicata. Infine mi porto quello che è una corda. Una corda, questa è una mezza corda. Sono 30 metri, ha un diametro di 7-9. Può essere utile se con voi ci sono persone poco esperte e magari nei passaggi più esposti se entrano in panico avete modo di assicurarli con una corda. Infine una felpa. Perché se fa freddo abbiamo voglia magari di tenerci più caldi. e nella seconda tasca mi porto sempre anche una maglietta di ricambio da magari cambiare in vet se siamo particolarmente sudati e una giacchetta antipioggia. Infine abbiamo l'immancabile kit di primo soccorso. Ti levi dai c***i. Altri accessori che porto sempre con me sono la torcia frontale, utile se dovessimo rientrare con il buio e un coltellino che non può mancare in nessuno zaino. Infine all'interno dello zaino abbiamo la camel bag e poi chiaramente utilizzo lo smartphone sia per fare le foto, video ma anche per tenere traccia del mio percorso. Infatti installo un'applicazione che si chiama ViewRanger dove poter seguire il percorso con la mappa mi dai tempi di percorrenza eccetera eccetera. Se vi può interessare un video su questa applicazione lasciatemi comunque sotto un commento. infine due parole sull'abbigliamento. Il consiglio che danno tutti è comunque quello di vestirsi a strati soprattutto se andate ad affrontare la via in inverno e avere un buon paio di scarponcini. Io attualmente utilizzo scarponcini da alpinismo con sola rigida perché così permette di avere maggiore sicurezza nei passaggi più difficili. Bene, come sempre se avete domande o suggerimenti vi invito a lasciare un commento qui sotto ad iscrivervi al canale e di andare a vedere il blog www.welltherapy.life perché è uscito anche l'articolo sull'attrezzatura da via ferrata con qualche suggerimento in più. Intanto ho appena finito di scattare le ultime foto per il video e il blog e ho fatto anche il disastro perché è caduto il cavalletto c'è il suo tanto vento e ho fatto il disastro. Ciao, alla prossima!